Amici super appassionati, ben ritrovati sul mio canale! Oggi andiamo a riscoprire un top di gamma 2019 che è stato lanciato sul mercato a 999€ Stiamo parlando di Huawei P30 Pro Un telefono che ancora oggi sa parlare di sé farà tanto parlare di sé perché il prezzo si è abbassato e lui rappresenta quello che noi non possiamo vedere con i nostri occhi Con lui i nostri occhi non avranno più un limite Riusciremo a guardare con uno zoom 50x E allora vi ho messo un po' di curiosità Ed eccoci qua ragazzi con il P30 Pro di Huawei che ritroviamo nell'aprile 2020 in grandissima forma con questa back cover opaca per la tre quarti Mentre qua parte alta troviamo un vetro lucido Questo effetto mi piace tantissimo Logo Huawei, logo Leica Per ricordarci che le quattro fotocamere fanno sul serio 40 megapixel, 20 grandangolare, 8 con lo zoom E una camera della profondità Per creare più profondità possibile nella scena Ovviamente messa a fuoco laser e LED flash Abbiamo già visto l'accensione blocco-sblocco Il bilanciere per il volume in alto La porta ad infrarossi Con il secondo microfono riduzione rumori Dall'altro lato tutto pulito È in basso che troviamo un sacco di cose Fra cui l'altoparlante mono Il ingresso per cavetto tipo C Esce a USB 3.1 Quindi porta fuori l'audio e video Microfono principale e slot Slot che contiene o due nano sim o una nano sim È una nano SD per espandere i 128GB 8GB di RAM Kirin 980 Ma quello che conta di più Secondo me è un bellissimo Display curvato sui bordi Quindi un display edge 6.47 pollici Full HD Plus Tecnologia AMOLED OLED veramente bello Si vede bene sotto al sole Luminoso, contrastato È proprio un bellissimo display Lo ritroviamo Questo P30 Pro in grande forma Andiamo un po' a vedere L'interfaccia del menu Andiamo su info Telefono E subito vi faccio vedere L'Emotion UI 10 Con l'Android 10 Eccolo qua Con l'Emotion UI Arrivata alla versione 10 Quindi ultima versione disponibile Che ritocca un po' la grafica Che porta Android 10 E vi faccio subito vedere Il multitasking Che è questo Tutto molto molto veloce Andiamo subito a fare la prova Di Facebook E guardate come si comporta Nel 2020 Questo Huawei P30 Pro Ho visto ormai che c'è Il P40 Pro Ma qui si parla di un rapporto qualità prezzo Molto più vantaggioso Devo provare anche il P40 Pro Ma secondo me Non ci sarà poi tutta questa differenza Nelle prestazioni E parlando di prestazioni Asphalt 9 Aiutato anche dai punteggini Di Geekbench 5 E un altro programmino Che sto usando Per calcolare I bench Dei vari smartphone Vediamo un po' Quanto impiega Ad aprirsi il gioco Vediamo Attendiamo un attimino Che il gioco venga caricato Attendiamo E guardate E' già partita L'animazione Che significa che In un battibaleno Il gioco è caricato 8 giga di RAM Non credo Con questo processore Vedremo mai un lag Forse un piccolissimo lag Ma forse anche più Per colpa del gioco Dell'ottimizzazione Del gioco Ma ragazzi Incredibile Una parte gaming Ottima Posso derapare Posso accelerare Guardate come sono Scarso Nei giochi 3D E vabbè Comunque torniamo In verticale Ma vado a parlarvi Anche di sblocchi Perché questo Telefono si sblocca O con l'impronta digitale Ed è velocissimo Tac Lo posso rianimare Sollevandolo Da un piano E se lo vado a guardare Si sblocca Vi faccio rivedere Lo sblocco Con il volto Che è molto Molto rapido Ovviamente la sera Ha qualche difficoltà Ho criticità ragazzi Il display è molto bello Dovete essere amanti Del pannello Edge Quindi laterale Perché Perché ogni tanto Vedete Si impugna Si rischia di toccare Qualche iconcina Io non sono proprio Un amante Dei display Edge Ma tutto posso dire Tranne che questo Telefono Sia brutto È veramente Secondo me Molto molto bello E le fotocamere Sporgono Pochissimo C'è anche la coverina In dotazione TPU Abbiamo già visto Nell'unboxing Cavetto Di ricarica Auricolari Con La uscita Tipo C Perché qua Non abbiamo Il jack audio È un super caricatore 40 watt Pesantissimo Ragazzi Ma vi consentirà Di caricare Da 0 a 100 Scusatemi Da 0 al 70% In mezz'ora È veramente Pazzesco Altro dettaglio Sulla back cover Altro dettaglio Sulle fotocamere Veramente La parte più bella Di questo P30 Pro Che ha Un audio mono Ma non ha La capsula auricolare Guardate un po' ragazzi Non c'è La capsulina E allora voi mi direte Ma come si sente L'interlocutore Al di là Della Della Cornetta Vado a chiamare Un numero a caso E guardate Questo cerchietto Vi sta indicando Di mettere L'orecchio In questa zona Perché L'audio viene indotto Dietro questo pannello Dietro il display In questa zona qua Quindi sentirete Proprio Da questa zona E si sente anche Molto molto bene Torniamo a parlare Di audio E vi faccio sentire Un brano Tutti i brani Volume A palla Ecco il volume Ecco il volume Veramente Molto molto alto E anche Ben fornito Di bassi Quindi un audio Spettacolare Pur essendo Mono A me piace Qui la potenza Che Quante sorgenti Riesce ad avere Andiamo a parlare Di parte Diciamo Grafica L'interfaccia È nuova Troviamo Un po' Di ritocchi Grafici C'è la Modalità scura Sia per Sforzare meno La vista Sia per Andare a risparmiare Qualcosa Sulla batteria E in questo caso Guardate Scompaiono Tutti i bordi Di questo telefono Non c'è Quando si guarda Praticamente Su sfondo nero Non si percepisce Dove Termina Il Il telefono Ci sono anche Le gesture Quindi se non vi Dovessero piacere Questi tre tastini In basso Potrete andare A cambiare Tastini Con I gesti Con i movimenti Ve li faccio vedere Senza tutorial Semplicemente Facendo questo movimento Si torna indietro Dal basso Mi fermo in alto Attivo Il multitasking Chiudo tutto Se voglio tornare Direttamente alla home Faccio questo Movimento Qua Andiamo a parlarvi Di Batteria 4200 MAh Con ricarica Super Mega Charge Di Huawei Vi ho già parlato Di questo oggettino Qua Anche ricarica Wireless 15 Watt Quindi è anche Abbastanza veloce E anche Ricarica inversa Questo telefono Può donare Energia Ad un altro Se appoggiamo Un altro dispositivo Con ricarica Wireless Sulla sua schiena Quanto dura La batteria Vi faccio vedere Uno screenshot Della durata Questo è lo scarico Quindi Abbastanza lineare E sono riuscito A fare 5 ore E 38 Minuti Di schermo Acceso Quindi Più Di una giornata Arriverete a sera Sempre con Il 30% Abbondante Questo telefono Ha un'ottima durata Vi parlerei Infine Di parte Multimediale Quindi Una fotocamerona Super figa Che registra Video Guardate a che risoluzione In 4k Però se io metto Il 4k Ragazzi Mi devo fermare A 30 Frame Per secondo Posso usare Anche il 1080p Con Una Frequenza di fotogrammi 60 Frame per secondo Molto molto meglio A mio avviso Del 4k A 30 Frame per secondo Torniamo indietro Vi faccio vedere Tutte le varie modalità Della fotografia Fotografia normale Ritratto La notte Quindi Fotografia in notturna L'apertura della lente Quindi per andare a Mettere in risalto Quello che sta davanti A noi E andare a sfocare Il retro Video L'abbiamo già detto Modalità pro Modalità Nella sezione altro Tutte Queste modalità qua Fra cui L'HDR Quindi è settabile Solo Da questa modalità qua Vedete che mi vanno A scomparire tutte Le varie opzioni Anche per quanto riguarda Allo scatto Si può scattare Solo In 4 terzi 10 megapixel Se volete usare La maggior risoluzione Con l'HDR Ma le fotocamere Sono tante Quindi Andiamo a vedere Lo switch Vado a usare La grandangolare C'è un leggero scattino Quando si passa Fra una fotocamera All'altra Se andate molto Molto piano Ve ne accorgerete Non so se riuscite A capirlo Dalla videocamera Vedete come Mi sto avvicinando Mi sto avvicinando Mi sto avvicinando Perché? Perché voglio farvi vedere Che si arriva a uno zoom 50 per Guardate qua Huawei E in realtà Huawei si vede Piccolo così Con il grandangolo Una fotocamera Dotata di intelligenza artificiale Ed è una figata Perché? Perché l'intelligenza artificiale Saprà quando impostare La giusta modalità Se io vado Nella modalità foto E faccio Un'inquadratura A un vostro A un amico A un genitore O chi Per noi Automaticamente La fotocamera Si trasformerà In modalità Ritratto Per andare a sfocare Quello che sta dietro Il volto Ed è una cosa Che ho apprezzato Tanto Un'intelligenza artificiale Che funziona Molto molto bene Vi faccio vedere Anche i tagli Della Fotografia Basica Quindi foto Tagli Di fotografia Eccoli qua Tutti questi tagli 40 megapixel In 4 terzi Si scende poi 10 megapixel In 4 terzi Se vogliamo Lo schermo intero 6 megapixel Fotocamera frontale Da 32 megapixel Anch'essa Con l'effetto Sfocato Come vengono Le fotografie Siamo pronti Per guardarcele Fotocamera E adesso Vi faccio vedere Subito Come scatta La notte Di notte Le foto vengono Molto molto bene Manoferma Ci mette Quei 3 secondi Per memorizzare La fotografia Ma I risultati Sono spettacolari Sia a livello Di sfocatura La sera Sia a livello Di luce Perché veramente Schiarisce tantissimo Voglio fare con voi Un esperimento Fotocamera normale 40 megapixel Guardate un po' Ero in questa Posizione qua Il libro aperto 50 per 50 per Che porta La visibilità Della scrittura Comprensibile Bella grande Tutto messo a fuoco C'è una messa a fuoco Anche molto digitale Quindi riesce a non fare L'effetto mosso Altro Esperimento Quindi vi faccio vedere Sia Una foto A distanza A un palazzo Concentratevi sulla parte Centrale del palazzo Dove vedete In lontananza Un condizionatore Ecco 50 per Eccolo qua Il condizionatore Che ci mostra Addirittura La marca Il tagliandino Applicato sopra Ultima riprova Palazzo In lontananza Concentratevi Sulla parte Più lontana Del palazzo Quello al centro Giallo Ok Guardatelo al centro Perché Con lo zoom 50 per Noterete Il cartello Ovvero Diciamo Il tendone Andrà Tutto bene Continuiamo Con la carrellata Di fotografie Un po' di foto Artistiche E non Con tanti Dettagli Incredibile Le foto di questo telefono Sono veramente Incredibili Comprese Le foto Con la Fotocamera frontale Non la migliore Selfie cam In assoluto Ho visto di meglio Però Veramente Bellissime foto Quindi Un reparto Fotografico Veramente Veramente Ben Fatto Rispondo a una domanda Che mi farete in tanti Ha il Play Store nativo Sì Eccolo qua Ha il Play Store Ma già lo sapevate Sono sicuro C'è anche l'App Gallery L'App Gallery La nuova Applicazione Di Huawei Visto che Nei nuovi modelli Non sarà più possibile Utilizzare il Play Store Eccola qua Ve la faccio vedere Per quelli che ancora Non l'hanno vista Divisa per consigliati Categorie Top Gestione dell'account E qui c'è il profilo Dell'utente Dovrete Loggarvi Ma è tanto semplice Applicazioni Top Installa E via Per cercare Un'applicazione Non dovrete far altro Che andare qua E selezionare Whatsapp Ad esempio Vedete tutti i Whatsapp Disponibili La prima scelta Whatsapp Applicazione Ufficiale Andrete a installarla Direttamente dal web E ve la ritroverete Come un semplice APK Sul telefono Appassionati Secondo voi Quanto abbiamo speso Per portarsi a casa Questo Bestione Questo concentrato Di tecnologia Al lancio Ormai l'anno scorso Servivano 999 euro Ma Come al solito Arriva sempre il ma Alla fine delle mie recensioni Ad oggi Online Siamo a aprile 2020 Si riesce a portare a casa Con 500 520 euro Nella versione No brand Italia A questo punto Io vi dico Avete visto la recensione Siete stati molto attenti Ecco Allora Trovatemi Punti deboli Di questo Huawei P30 Pro Forse il display Curvo Non è che sia proprio Il massimo Della godibilità Io continuo a preferire I flat La espansione Di memoria Con la Nano SD E' una cosa Pressoché inutile Non è una tecnologia Diffusa sul mercato Ma per il resto Ragazzi Grandissimo smartphone Foto incredibili Veramente incredibili E mi piace un casino Il fatto che la fotocamera Intelligente Trasformi la modalità Standard Nella ritratto Per fare subito L'effetto sfocato E' veramente tanta roba Quindi Tutto molto bello Huawei P30 Pro Ad oggi Ha raggiunto la sua maturità Ed è pronto Per essere acquistato Da tutti voi Fatemi sapere Quello che ne pensate Io vi saluto Vi do appuntamento Al prossimo video Chi non è ancora iscritto Iscrizione al canale E per gli appassionati Di tecnologia E shopping online Segnalo il gruppo Offerte Smart Italia Su Telegram E su Facebook Ciao Che non è ancora iscritto